ho fatto c'è troppo lo volevo lo preferivo più ai sangue diciamo ma diciamo lo sbagliato tempi di ottura la prossima volta mi verrà meglio sal di mare si sente in mare vedete in questo lago io ci ho appastato per dire ho provato a pescare hobachini invece poi ci avevi in mais ho detto ma non si sa mai se appastiamo con i mais quando a un certo punto mi abboccavo ho sentito abboccare gli andavo giù galleggianto ho fatto vai ci siamo più di guarino a guarina nene a un certo punto mi vedo sì lassù questo che vedo questa testa forse una carta sarà una reina invece gli era una carpa coccorrillina tipi a fiorentina dell'arno da non imbrogliarsi comunque il coccorrillo e cerni bisensio non è buono non è buono questo di un coccorrillino fatto proprio allevato in acqua dolce ma poi stiamo è un lago tu ci sta bene anche lo per i nudi dentro ti assicuro io quel cazzo c'è andava a camminare lì dentro c'è coccorrilli vedete e ora si va a spellagnene perché il casino di apulignene bisogna levagli per dire che c'è chi di garba la offenda dentro il panino città bene la offre in minari dove tu dai dai morsino tu dai morsino alla cotennina diciamo ci sta bene anche il fregatino io lo foco di finocchietto c'è chi ci mette il ramerino ma nuova firenze si coce 5 e 5 e poi sull'osso per un quarto d'ora vedete la braccia è molto importante deve essere arda parecchio arda perché più carda ed è più che vien crocchente viene crocchente che specialità ragazzi lo spiavino il famoso spiavino diciamo di fiesole alla fiesonana questo è un sistema si fanno a fiesole lo fanno a cassetto lo fanno anche all'impruneta ma diciamo la vera ricetta gli è di campo di marte e guara va fatto a cocere nei girarrosto un bel po perché a volte succede che capito la carne più la va cotta diciamo più la coce e più che la diventa morbida vedete fa la crosticina voi non sentite questo profumino ragazzi che profumino altro e narocchi fitri e la festa dell'unità e la maia adesso ma questo gli è questo gli è alta cucina gli è alta cultura questo gli è un altro mangiare gli è un altro stare capito gli è un altro stare vedete ragazzi ma poi arne bianca gli è bianca gli è morbida non fa male questo non c'ha grassi gli ha tutta roba buona capito per andare in palestra mi è tutto magico così ma senti con così da parte di un boccone di roverei sarei curioso di come già sicuramente di molto buono ma di molto buono mi fa a gura e mi fa a gura a me fa a gura indossiamo per solo su amazon aspetta va un po di nagna nella card se ci arriverà la pacchetta dal dal da dove gli arriva